bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono alej e oggi ci siamo su fortnite con alessio spida ma che lo chiameremo simone simone quello che è perché non mi ricordo che si chiama simone mighetti mi sembra vabbè saluta il fabbano come mi chiamo no no allora ragazzi ho provato a fare alcuni video dove insomma volevo fare altri video con alessio simone simone e non ci siamo riusciti ovviamente ecco infatti perché non siamo riusciti a connetterci e proprio per questo il problema che ogni volta che facciamo il video non riusciamo a connetterci è una roba incredibile veramente incredibile ma alej è partito il video no? si secondo te come secondo te perché ho detto l'inter eh no ce l'abbia fatta stavolta ok ragazzi siamo partiti vi voglio sicuramente dire che in questo video ci c'era la webcam tra tre ho detto tra tra tre due uno ciao ciao comunque perché adesso non è partita ok ragazzi aspettiamo ovviamente se non inizio ovviamente lo dobbiamo no se ovviamente inizia perché la mia sede è bassa e pensavate che ho più basso comunque comunque sposto la mia webcam se volete allora adesso vedete in quanti siamo allora comunque vedete aspettiamo che adesso non diventerà in attiva ci sei adesso allora noi andiamo sì sì eh dove vuoi andare tu andiamo qui hai messo la webcam? certo lo ho messo nel posto giusto puoi far caricarlo il video te lo giuro caricami certo se no se faccio un video e non lo carico che cazzo serve va bene comunque mi fai di servini possiamo sentire tutto il casino ragazzi che fa adesso ovviamente possiamo sentirlo l'aga comunque anche lui è uno youtuber vi metterò il link del suo canale in descrizione così lo potrete trovare te faccio pubblicità sei contento? l'aga un sacco ho capito ma io ti metto il link in descrizione del tuo canale quindi ti faccio pubblicità posso dire che non viene quella cazzo proprio un cazzo questo che mi insegna buono ose a lei a te ti larga no non mi larga ragazzi ragazzi mi si sente in ritardo buongiorno buongiorno usciamo di più certo ancora l'aga? ovviamente tutti i problemi devono esserci quando faccio un video mi sembra ovvio no andiamo dentro al suo forno che ci muoio subito chi c'è? ma come chi c'è? eh ma cosa? vedi che mi larga e che cosa ci posso fare se ti larga? se non ti larga sei bravo cioè sei beato porca vacca quanto l'ho di lag e c'è una persona non è vero non è vero non sei morto faccio? mi sono ferrato aiuto non hai spaccato più un amico aiuto mi vuoi spaccato 50 di shit muori ci bastardo ok ho tenato è morto eh curami si ti porto pure in medikit curami no non ti pare guarda che mi rompe lo scala dove c'è sei? eccoti quanto vita hai? eh non lo vedo perché sai che la webcam la sommessa eh la webcam la sommessa proprio dove chiara la vita ok curati 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 però aspetta mi larga bro eh ma non ti faccio far niente dai ci sono solamente noi due contro quello non possiamo perdere qualcosa che mi dice che arriverà qui aiuto è qui eccolo non ci credo ho sbagliato ok ci ho fatto però non puoi sapere quanto larga è tantissimo ho ammazzato fa culo vai bravo c'erano dei shiddy comunque due uno lo bevo io e uno lo bevi tu ah no c'è già un paio di shid ok e c'è un altro ma fa culo tutti qui arrivano mamma mia oh quanto sono pro ho ammazzato bene eh ma quanto l'odio quando l'agga eh ma guarda almeno sono forte sta partita dai e forse che faccia la tua famiglia dai un po' allora aspetta che mi metto la telecamera in basso dove non serve ok ora vedete tutto ragazzi vedete tutto più dettagliato vedete la vita vedete però adesso mi vuoi dare i corsi del prossimo qua si tieni grazie comunque mi sono fatto tre che ce ne fai tre che così mi sono fatto quella dei catticoli io non mi muovo più quante gritti ci hai fatto io non mi muovo più beh ma non mi muovo più perché la ha potuto mi muovo adesso ti muovi eri un robot ma ho fatto via perché la guano tre alberi l'ho distrutto tre alberi con cinquanta di vita non ne posso più oh donno mio fanculo Ari vieni dove è dov'è Ari non l'ha da fu ah no lo capisci che non devi parlare che devi stare muto perché sai no e ma guarda che poi si chiede il contrario quello che dici ok ah c'è ah c'è un'uco l'aereo devo andare al peffino no no col cavolo te lo do perché te lo devo dare scusa aspetta scusa dove vaia comunque ci sono altri sul quad dentro di noi caccia se non c'era l'albero se non c'era l'albero non marciamo certo 4 ok bellissimo colpo no no come è successo dove 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 ah è lì non lo so è qui è qui ahia che male no è tutto incasinato beh gg comunque ragazzi abbiamo riprovato 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 non ce l'abbiamo fatta quindi abbiamo la possibilità di fare tempesta stabile vediamo cosa dice la tempesta non si fermerà mai comunque ragazzi vi dico una cosa questa parte l'ho tagliata beh ovviamente dobbiamo sperare che il video finisca bene e vabbè comunque vediamo se questa partita riusciamo a fare qualcosa a concludere qualcosa non lo so perché se non riesco a fare il cazzo sapete cosa faccio niente semplicemente chiudo tutto no no vabbè ragazzi io ti ho detto cominciare se riesco a mettere bene la telecamera no ah vediamo la tempesta ho paura della tempesta è la prima volta che ho paura della tempesta ragazzi sapete dove vado qua io vado vado volentieri beh beh ragazzi io direi di andare a condotti non è vero sto scherzando non vado a condotti vado qui o no eh vabbè non vado a condotti non me la prendo bella bella bucione salve ho bisogno di di rinforcì 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 ok ok di rinforcì buono 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 ok ci ho scudo iniziamo bene questa partita ovviamente non c'è bisogno che vi faccia vedere come si sono uccise le persone perché a voi non vi interessa cioè non vi interessa potete solo oddio 14 minuti chiudi ah ma perché non c'è la safe ah ecco perché diceva la tempesta non ci fermerà mai quindi quando arriva verso di noi praticamente siamo spacciati saremo spacciati ottima idea ma non tanto perché io la detesto voglio vedere il combattimento finale questa modalità saremo tutti le stringeremo cosa posso prendere io direi i cittadini sì e la pellicura oh mio dio ma la tempesta non è mica tanto lenta eh cioè non è lentissima cioè ci arriva tipo a rampe e ghiacciate siamo finiti perché è già entrata nella mappa ah ce n'è uno c'è uno c'è uno non lo sento più dov'è 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 il tizio non lo vedo sento dei passi ma non lo vedo non vedente non pensante come il gioco 89 ecco ecco qual è possibile eccolo ha semo no no oddio ce l'ho fatta ce l'ho fatta non mi è scappato non mi è scappato non mi poteva fuggire qualcuno così ok bene siamo vivi era un nabbo per fortuna era un nabbissimo era nabbo comunque siamo in 38 yes io uso la finitura per me da qualche altra parte tipo vado no vabbè ma la scelta è già così non ci credo allora ragazzi siamo morti praticamente perché mi sono dimenticato qualcosa che mi poteva farci provvivere le bende no cioè le ho viste ma non mi sono ricordato dove bene hanno aggiunto comunque lo stereo ragazzi che vi ho fatto vedere prima è un lama? si un lama si un lama bene comunque ragazzi vi ho fatto vedere lo stereo e voi vi domanderete cos'è questo stereo serve a far insomma far cadere tutte le costruzioni perché ha una musica assordante cosa significa assordante chi non lo sa un rumore insopportabile nel senso proprio uno di quei rumori fortissimi tipo i fuochi d'artificio no? ecco tipo quelli e giustamente le costruzioni cioè si distruggono non ho ben capito il perché ma sono magari hanno le onde elettromagnetiche credo però non ne sono sicuro chi lo sa me lo dia me lo me lo dica grazie comunque vedo che ci sono ho visto un aereo quindi stiamo lontani dall'aereo la giornata ha già praticamente sotterrato a prodo quindi fanculo sono venuto qui per vedere se c'erano gli aerei ma non ci sono come cavolo si fa eh c'è un altro aereo lì sapete cosa può andare lì qui ok ok allora vediamo se c'è qualcuno qui no ok no ok ok è caduto ce ne va ma dai vabbè senti se la vuoi mettere così l'accetto oh si baguette benissimo riprende sto albero spostano capo è mio baguette è mio è mio ok bravo bene bene abbiamo le armi sufficienti per sopravvivere però ci siamo fatti abbastanza male facendo questa cosa però meglio 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 perché almeno cioè aveva armi fortissime quindi sicuramente mi ammazzava se non facevo questa cosa non riesco a salire vabbè devo farmi una tascala ok mi faccio un fortino per vedere se non c'è altra gente infatti c'è altra gente e la mamma mia cioè con un colpo solo mi ha macchiato mamma mia che simpatico che simpatico che sei e vabbè raga come ultima partita io direi di di sempre fare questa modalità comunque perché è molto figa però comunque stavolta cercherò di concentrarmi al massimo al massimo proprio so se ci riesco ovviamente ti voglio ti voglia sei troppo figa sei troppo figa cavolo io la voglio anche con la coda però perché la coda cioè è con la coda proprio bellissima gente poi non ne parliamo è figo a cui dico che fa schifo ma proprio cioè non li capisco tanto non li capisco ok aspettiamo che ok buongiorno buongiorno signori sono venuto per dirvi è un party allora balliamo bene bene la tempesta inizia adesso dove andiamo ragazzi eh lì qui qui proprio lì perché lì ragazzi perché lì ci ha fatto fare la vittoria reale quindi dobbiamo andare lì non è che ad ogni episodio andrò sempre lì eh cioè non prendetemi con un babbero oh mio dio e forse ci va leggermente tanta gente qui questa è l'ultima partita ragazzi ovviamente ho già trovato armi abbastanza forti fortissime basta buccia era bello e vabbè l'hai voluto tu ok no caduta 18 non è successo veramente bene dimmi che la posso accogliere niente devo cadere per coccio vabbè ok ehm good buongiorno sapete dimmi sapete dimmi per coccio dove si trovano i testimoni di Gerba che li sto aspettando io uso il falò secondo me che è molto bello e accogliente pir 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 apri per 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 ok bene andiamo uh Ok, bene Ok, abbiamo trovato Armi e Abbas faccio forti Sì, 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 sì Molto forti, l'acce Io ho sentito per un attimo Un aereo, mi sembra Magari mi sono sbagliato Vaffanculo Nuovo sia dove sono Non è possibile Eh, ma questo c'è costruito benissimo E secondo me è anche abbastanza forte Abbastanza, dico io E anche molto furbo Guarda dove ci ha messo Pensavo di fregarmi Mettendoci lì Basta poco per fermarmi Basta un poco Di ciunchello e la pillola Va giù E vabbè È proprio ingenioso, eh Intelligente Un buon abbo Ma intelligente Perché poteva anche fregarmi Poteva fregarmi benissimo Invece però non ce l'ha fatta Eh, perché io Sono furbo Molto furbo Perché non ce l'ho aspettato No, no Allora ragazzi Direi di usare la jump Per andare da qualche altra parte Ok, allora Speriamo che A, E, I, O, U Non c'è mica qualcuno qui Ehi Qua c'è una strafaccia Mi sono scherziato Credo che C'è andato lì Allora Cosa si fa? Gioca Da un po' di stagioni, eh Quindi c'è la moto forte Infatti Non è lui È un altro Era un altro Allora C'è un cecchino Poi questo Ok Oddio No ragazzi C'è Se ragiona Mi C'è Se ragiona Mi 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 Uccide Con colpo E basta Con un colpetto Sei una moto C'è un cecchio Che è essiccio Da lei Boh Comunque ragazzi Lascio Cioè Prendo lo stereo Al posto Della mitaglietta Intanto Non serve tanto No, 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 no Mi Stavo irritando Ok Non c'è nessuno Guardate Pinnacoli Come l'hanno ridotto Povero Pinnacoli Cioè Pinnacoli È la zona Più Distrutta Nel mondo Raga Mi posso Dire una cosa C'è La tempesta Che si avvicina Di più Ehi Comunque 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 ragazzi Vi voglio dire Che Cioè Solo lo stereo Può fare una cosa simile E vi voglio dire Anche una cosa Che Voglio scoprire La La Lotta finale Di questa modalità Sicuramente Succederà Un casino Perché Non ho la calamita Vorrei Saperlo Perché Non ho la calamita Mamma mia Se morivo così Ragazzi Vi giuro Che mi ammazzavo Di botte Dalla mattina Alla sera Lasciate Gio Ovviamente Me lo faccio scappare Ecco Ecco Hai Vado uno che mi ammazzia Lo sapevo Ammazzimi Procci Lo scelgo Lo scelgo Quello che fa Nooo L'ho mancato Nooo Allora Allora Comunque GG Una delle belle partite Non ho vinto Ma comunque Cioè Dai Ci hanno migliorato Molto Comunque ragazzi Spero che Sto video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao